Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del Tg6 che oggi apriamo parlando dell'approvazione del bilancio del Consiglio regionale che c'è stato ieri concluso a tarda notte tra le polemiche del centrodestra, l'assenza del Movimento 5 Stelle e dalle prime notizie ci saranno pochi fondi per l'istruzione e per il turismo. Il servizio è di Germana Dorazzi. Un esausto Consiglio regionale ha approvato a notte fonda la legge di stabilità con il sì della maggioranza e il no del centrodestra. Nella lunga maratona inoltre intorno alle 5 di questa mattina è stato licenziato il bilancio di previsione 2016. Ammonta a 7 miliardi e 977 milioni di euro in totale, circa 1 miliardo e 400 milioni di euro in più dell'anno precedente. Sul fronte delle entrate si può contare su un avanzo di amministrazione pari a più di un miliardo e mezzo, mentre 2 miliardi e 790 milioni di euro arriveranno da tributi e gettiti erariali. 237 milioni di euro da trasferimenti correnti, 71 milioni da entrate extra tributarie, 541 milioni da entrate in conto capitale. 1 miliardo e 797 milioni, infine, arriveranno da partite di giro. Per quanto riguarda le spese, invece, tra le più significative spiccano i servizi istituzionali, generali e di gestione, a cui saranno destinati 438 milioni di euro. All'istruzione e al diritto allo studio vanno soli 4 milioni e 600 mila euro, così come Cenerentola e il turismo, che prende solo 3 milioni e 600 mila euro. All'assetto del territorio e all'edilizia abitativa vanno 30 milioni e 195 mila euro, allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente 50 milioni di euro. Trasporti e diritto alla mobilità prendono 217 milioni. Al soccorso civile vanno 16 milioni di euro, alla tutela della salute 2 miliardi e 52 milioni di euro, allo sviluppo economico 13 milioni di euro. Tra gli altri provvedimenti collegati ai documenti contabili ci sono la moratoria all'apertura dei nuovi centri commerciali fino a maggio 2018, la proroga per la sanatoria dei sottotetti e la previsione di servitudi allagamento nei pressi di corsi d'acqua, che istituisce il divieto di qualsiasi tipo di insediamento fino a una distanza di 400 metri dagli argini dei fiumi. Per quanto riguarda l'intesa politica, sempre più vacillante tra la maggioranza e il centro-destra, si è evitato il ricorso da parte della maggioranza alla cosiddetta legge tagliola, che consente di ridurre drasticamente le proposte delle opposizioni a sole 5 per consigliere, in cambio però di qualche concessione al centro-destra. Ai lavori del Consiglio regionale di fine anno non hanno partecipato i grillini saliti sull'Aventino dopo aver occupato gli scranni della Giunta, provocando la reazione rabbiosa del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, e per questo colpiti da censura dell'ufficio di Presidenza. E proprio di questo parliamo adesso. Cinque sono state le censure per i grillini che hanno occupato i banchi della Presidenza e nessun provvedimento nei confronti degli esponenti del PD. Questa è stata la denuncia del consigliere regionale, Domenico Pettinari. Tutto nasce perché il Movimento 5 Stelle chiede trasparenza sulle voci del bilancio da approvare. Succede un atto dove c'è un video che parla di quella che è stata un'azione contestata da parte della Presidenza, di una reazione. E poi alla fine che cosa succede con il bilancio? Sì, noi abbiamo gridato negli ultimi mesi in Commissione chiedendo i nostri diritti, rivendicando i capitoli di spesa del bilancio, che significa che i cittadini, maggiormente i consiglieri, devono sapere da dove si prelevano i soldi dei cittadini e dove vanno a finire. Non ce li hanno fatti mai vedere. Questo è il punto. Perciò abbiamo messo in atto quella protesta per ottenere i capitoli. Non li abbiamo ottenuti. Oggi hanno approvato alle 5 di questa mattina un bilancio al buio, cioè un bilancio composto da macroaggregati, che significa che vogliono fare cose belle magari a Pescara, dicono di farle a Teramo, a Chieti, ma non sappiamo dove si interviene. Per esempio, i poveri cittadini delle case popolari avranno i soldi per la manutenzione delle loro case? Non lo sappiamo. I cittadini che gli ex dipendenti del Ciappi ce li avranno i soldi e stanno manifestando da tempo? Non lo sappiamo. Addirittura ci parlano di 1.700.000 euro per il turismo, poi andiamo a scoprire perché solo qualche piccolo capitolo hanno scoperto questa notte in Consiglio e pare che sia a zero il capitolo di spesa. Allora forse aveva ragione il Movimento 5 Stelle, senza ombra di dubbio. Perché ci hanno negato i capitoli? Perché secondo voi non ce l'hanno fatti vedere? Perché quando non si fa vedere qualcosa evidentemente si nasconde qualcosa. Abbiamo messo in atto una protesta, protesta pacifica, gandiana, non abbiamo alzato un dito, abbiamo semplicemente occupato i banchi perché rivendichevamo questo nostro diritto, che è un diritto dei cittadini. Loro si sono avvendati con forza nei nostri confronti. Noi, io e la collega Sara Marcozzi siamo stati oggetti di violenza perché hanno alzato le mani nei nostri confronti. E questo pochi lo dicono e non sono stati censurati per questo loro. Al contrario l'ufficio di presidenza ha disposto cinque censure nei confronti dei cinque consiglieri del Movimento 5 Stelle. Questa è una gravissima disparità di trattamento. E a parlare è stato anche il consigliere regionale Camillo D'Alessandro sempre per un video circolato sul web che abbiamo visto anche in questa intervista dove dice che il Movimento 5 Stelle ha diffuso un video che è stato montato ad arte e spiega soprattutto come poi abbia subito delle minacce personali sulla sua pagina Facebook e anche in privato. Vediamo. Camillo D'Alessandro sono arrivate anche le minacce sulla sua posta elettronica e sul profilo di Facebook. Purtroppo sì, questo accade quando si armano le persone di false notizie. È stato diffuso sulla rete un video costruito ad arte nel quale sembra addirittura che io tiro qualcosa a qualcuno quando invece semplicemente cercavo di evitare che un telefonino mi riprendesse senza colpire assolutamente nessuno e per fortuna che ci sono le immagini del consiglio regionale che dimostrano esattamente questo e poi mi si attribuisce una frase eliminata da un contesto dove io stavo ironizzando con un consigliere di 5 Stelle e la combinazione dell'attacca e cuci in colla ha dato l'impressione di chissà quale atto io avrei compiuto il risultato è un'aggressione mai subita sulla rete dai militanti dei 5 Stelle a cui è seguita e è stata condita anche di minacce. Consigliere D'Alessandro, nel frattempo è stato approvato anche il bilancio 2016 della Regione Abruzzo. Quali sono le novità? Da un lato la massa debitoria mai accertata perché se l'avessero accertata l'avrebbero dovuto iscrivere in bilancio inizia ad essere inserita nel bilancio per cui puliamo i debiti del passato per fare in modo che le generazioni future non vengano ulteriormente appesantite di debiti. La seconda questione è che noi garantiamo partite finanziarie importanti sul sociale sui trasporti ulteriormente da rimpinguare con i passaggi successivi durante il corso dell'anno e sulla tenuta economica e sociale della nostra Regione. Sapendo che l'imperativo del 2016 è il lavoro a tutti i costi dobbiamo fare in modo che la massa finanziaria disponibile che deriva dalle programmazioni nazionali e comunitari che la Regione Abruzzo dispone venga messa nel circuito economico cosa che non è accaduta nel passato e che invece noi dobbiamo fare in modo che quelli soldi diventano cantiere, economia, finanziamenti alle imprese. Questo è l'impegno che si esprime col bilancio approvato. Ora passiamo alla cronaca. Si era allontanato da casa lo scorso 28 dicembre tre giorni di ricerca e poi questa mattina la scoperta fatta da un cacciatore Dilio Francesco Silveri è morto ritrovato nella campagna tra Camarda e Filetto il servizio di Daniela Rosone. È stato ritrovato senza vita Dilio Francesco Silveri l'83enne di Paganica scomparso lo scorso 28 dicembre. Questa mattina un cacciatore nella strada tra Filetto e Camarda frazioni dell'Aquila, località Ornatina ha notato il corpo dell'uomo a terra nelle campagne. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco sarà l'autopsia ora a stabilire le cause del decesso probabilmente un malore complice anche il freddo di questi giorni. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. L'uomo lunedì pomeriggio si era allontanato da casa a Paganica intorno alle 17.30 e non vi ha fatto più rientro. Sono stati familiari a dare subito l'allarme ai carabinieri. Da un conoscente Dilio Francesco Silveri si era fatto lasciare vicino alla sua vecchia abitazione inagibile al centro del paese. Tre giorni di ricerche condotte da Vigili del Fuoco forestale, soccorso alpino e carabinieri senza esito estese anche a Castelvecchio-Subequeo paese d'origine dell'anziano fino a stamattina il tragico epilogo. Nuovi provvedimenti anti-smog a Pescara dal 12 gennaio targhe alterne subito riscaldamento contingentato il lavaggio delle strade l'incontro con le associazioni e gli ambientalisti diventa un tavolo di lavoro e il sindaco ha annunciato dopo l'emergenza la riviera pedonale il servizio di Elisa Leuzzo. I rimedi contro lo smog sono stati al centro del partecipatissimo incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso la sala giunta del comune di Pescara presieduto dal sindaco Marco Alessandrini dal vicepresidente e assessore alla mobilità Enzo Del Vecchio dall'assessore all'ambiente Paola Marchegiani dai presidenti delle commissioni consigliari mobilità e ambiente e a cui hanno preso parte associazioni di categoria ambientaliste comitati e gruppi cittadini TUA e ACI tutti convocati per condividere misure che scatteranno dal prossimo 12 gennaio al fine di limitare il livello delle polveri registrato anche in città come nel resto d'Italia. Nell'immediato si procederà con alcuni provvedimenti sostanziali annunciato il sindaco Marco Alessandrini targhe alterne per due giorni interi a settimana e per la durata di tre mesi il martedì circoleranno quelle pari il giovedì le dispari ordinanza che riduce di un grado la temperatura consentita nei condomini portandola da 20 a 19 gradi lavaggio delle strade da parte di Attiva accanto a queste misure verranno programmati anche altri interventi che saranno condivisi in un ulteriore incontro tavolo che l'amministrazione comunale intende organizzare quale strumento di lavoro in cui coinvolgere anche le scuole si porranno così le basi per il piano urbano del traffico lavorando ad uno strumento per la mobilità di aria vasta immaginando con soggetti preposti come tua ipotesi di spostamento attuabili con vettori sia su gomma che ferro e sostenibili all'interno dei tracciati già esistenti ponendo anche le basi per un vero e proprio piano regolatore dei tempi per monitorare ingressi e spostamenti delle auto tutte proposte affiorate dai vari soggetti che hanno partecipato alla riunione e che meritano ulteriori approfondimenti che l'amministrazione non mancherà di fare con gli uffici della mobilità infine l'amministrazione intende sostenere nuove pedonalizzazioni già dalla prossima primavera una sperimentazione riguarderà la riviera argomento di cui si è già discusso in giunta al fine di vagliarne la fattibilità e memori del successo riscontrato dalla chiusura del tracciato riverasco la scorsa estate con la notte del Mediterraneo la concretizzazione ora invece un'operazione della guardia costiera di Pescara un'operazione in collaborazione con i carabinieri del NAS dove sono stati sequestrati 9.600 kg di pesce equivalenti a 9,6 tonnellate in varie zone di Abruzzo e Molise e hanno elevato sanzioni amministrative totali per 77.000 euro fra i sequestri più rilevanti in particolare in un centro di distribuzione di prodotti ittici di Fossa Cesia sono stati sequestrati 1.596 kg di gamberi rosa ed elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro al titolare del deposito per la violazione della normativa sulla tracciabilità in due stabilimenti di trasformazione di prodotto ittico nel comune di Martinsicuro in provincia di Teramo sono stati rinvenuti 7.581 kg di pescato vario privo di documentazione che ne certificasse la provenienza ora invece parliamo dei dati pubblicati dalla CGL la consuntivo di un anno si parla di quella che è stata la situazione economica il lavoro l'occupazione la crescita e l'export male ancora per l'occupazione 40.000 posti di lavoro persi in 7 anni e soprattutto si chiedono le politiche di sviluppo vediamo se si guardano i dati in parallelo del 2014 e del 2015 la situazione che colpisce di più tra lavoro occupazione e anche posti di lavoro qual è l'Abruzzo a seguito della crisi che dal 2008 travaglia l'intero paese permane in una situazione di grande difficoltà il terzo trimestre del 2015 perde si perdono 4.000 posti di lavoro rispetto allo stesso arco temporale del 2014 dall'inizio del 2015 ad oggi si perdono ben 35.000 posti di lavoro l'altro dato che colpisce è il dato sulla cassa integrazione è vero che c'è una riduzione del numero di ore di cassa integrazione ma questa riduzione del numero di ore di cassa integrazione in buona parte è dovuta alla minore copertura della cassa integrazione in deroga l'altro dato importante da sottolineare è il dato sulle esportazioni c'è un aumento delle esportazioni in particolare per alcuni settori faccio un esempio i settori che producono mezzi di trasporto ma c'è una difficoltà per esempio per tutto il settore delle piccole e medie imprese e nelle regioni del mezzogiorno dove i redditi da lavoro e i redditi da pensione sono notevolmente inferiori rispetto alle regioni del nord è evidente che questo incide sulla dinamica della domanda interna facendola notevolmente calare e di questo ne risentono in particolare i settori della piccola e media impresa quindi quello che viene fuori è un quadro di grande preoccupazione ed è la ragione per cui noi da tempo sosteniamo che c'è bisogno che le regioni del mezzogiorno aprano una vera e propria vertenza con il governo nazionale c'è bisogno di nuove politiche industriali di nuovi grandi piani di sviluppo e di lavoro che sono le cose che mancano nelle politiche nazionali e di questo ne risentono in particolare le regioni del mezzogiorno Buone notizie per i precari del comune di L'Aquila per altri due mesi 56 dipendenti a tempo determinato del comune potranno tornare a lavorare il comune anticipa i fondi in attesa di quelli del Cipe che consentiranno una proroga più lunga il servizio Sarà una buona fine e un buon principio per i precari del comune dell'Aquila la giunta comunale infatti ha finalmente varato il rinnovo per i 56 lavoratori con contratti scaduti a tempo determinato che lo scorso settembre non erano stati prorogati una possibilità che si è aperta grazie a fondi giunti con la legge di stabilità appena approvata un rinnovo che poi sarà ampliato con le nuove disponibilità di fondi Cipe una battaglia che i lavoratori conducevano ormai da mesi e che ha provocato malumori e polemiche scaturite poi con l'occupazione simbolica di Palazzo Fibioni sede del comune da parte dei lavoratori giorno e notte due mesi di rinnovo ha annunciato l'assessore Betti Leone grazie a fondi anticipati ha detto dal comune dell'Aquila in attesa di quelli Cipe un rinnovo che permetterà al personale di rientrare in comune a svolgere mansioni in settori molto importanti la giunta comunale ha disposto anche la proroga per gennaio degli incarichi di posizione organizzativa in scadenza il 31 dicembre appunto una buona notizia decisamente per i 56 precari soprattutto perché c'era stata un'interruzione in alcuni servizi e alcune persone addirittura avevano minacciato di denunciare l'ente comunale auguri di fine anno da parte del senatore di Forza Italia Antonio Razzi che torna in Abruzzo per trascorrere le festività e nel consuntivo del suo 2015 gli abbiamo chiesto anche di fare una panoramica di quello che è stato l'assetto politico di Forza Italia in questo anno vediamo come ogni anno torna in Abruzzo per trascorrere qui le sue vacanze di Natale Antonio Razzi sottolinea sempre il suo attaccamento alla terra natia ma infatti ci sono anche le televisioni nazionali mi hanno intervistato su questo io rimango in Abruzzo i miei come si sol dire i miei soldi lo voglio lasciare agli abruzzesi il 2015 volge al termine e allora come si fa sempre in questi casi si stila un elenco di fatti che lo hanno caratterizzato e soprattutto di mete ancora da raggiungere di politica e non io innanzitutto sono soddisfatto per quanto riguarda la galleria di San Silvestro che è stata una mia iniziativa interparlamentare dove è stato stanziato 4 milioni 950 mila euro e la galleria di San Silvestro è fatta diciamo quasi come in Svizzera perfetto bello pulito e vi faccio i complimenti a coloro che l'hanno fatto per l'Abruzzo invece quale può essere il desiderio per il 2016? ma sicuramente far ripartire l'economia far ripartire anche il commercio e di commercio non ce n'è tanto io adesso il 29 di gennaio ci sarà l'ambasciatore della Corea del Sud per far capire dove la capitale è Seoul e io spero che anche lì alla Camera di Commercio di Pescara possano partecipare tanti imprenditori che vogliono diciamo avere delle relazioni con la Corea del Sud e questo mi sembra una bella iniziativa e invece politicamente che 2015 è stato parlando di Forza Italia parlando di Abruzzo ma c'è stato un po' di di malessere un mal di pancia e che ce n'è ancora tutt'oggi io spero che questo mal di pancia passa e che possa nel 2016 riorganizzarsi alla grande perché ne vale la pena per tutti gli abruzzesi che il centro-destra si uniscono compatti e che diciamo che sotterrono l'asce di guerra perché non serve a nessuno Consuntivo di fine anno anche per il primo cittadino di Pescara Marco Alessandrini in un anno che ha visto la città e anche il primo cittadino al centro di molte polemiche vediamo Un 2015 che ha visto Pescara al centro dell'attenzione e spesso delle polemiche l'ordinanza sul divieto di balneazione il ponte del cielo le tasse alle aliquote massime la spending review e la richiesta di dimissioni verso il primo cittadino ma è stato anche l'anno dei giochi del Mediterraneo trasmessi in Eurovisione l'Expo a Milano quello degli eventi a basso impatto e a basso costo come la notte bianca dello shopping lo street food i nuovi collegamenti stradali inaugurati i tanti cantieri in corso d'opera e poi tante battaglie in aula Marco Alessandrini stila il resoconto dell'anno che volge al termine Un anno che ha segnato per questa amministrazione un passaggio importante con l'approvazione del nostro piano di riequilibrio questa magari è una cosa che non scalda il cuore delle persone però è necessario sapere che senza diciamo basi finanziarie tutto diventa più complicato poi c'è il fatto che il tempo ti consente di cominciare a disegnare una trama una città che tu vuoi migliorare che immagini sempre migliore e poi siamo a fine anno ed è anche un'occasione per in qualche modo rivolgersi direttamente alla cittadinanza per fare alla cittadinanza stessa gli auguri di un buon anno mostrando da parte del sindaco vicinanza i bisogni alle speranze però anche della comunità perché io penso che la parola speranza sia sovente dimenticata invece noi siamo un grande paese siamo una grande comunità e abbiamo tutti gli strumenti e le forze per farcela per farcela la grande Qual è l'ambizione più grande che si può avere per Pescara per il 2016? Pescara deve continuare a crescere Pescara è la diciamo città guida dell'area metropolitana vasta ed è in qualche modo la porta dell'Abruzzo non solo come recita il suo standard e quindi noi ci vogliamo continuare a porre come punto di riferimento sostanzialmente per questa area vasta con l'idea che insieme dobbiamo lavorare per costruirla sempre migliore sempre più efficace sempre più prossima ai bisogni della collettività Tempo di bilanci anche al comune di Pineto e allora abbiamo ascoltato il primo cittadino Robert Verrocchio il 2015 della città di Pineto lo possiamo definire di programmazione come ha detto in conferenza stampa perché? programmazione perché abbiamo gettato le basi affinché il 2016 sia un anno dedicato alle opere le azioni importanti e questo territorio si aspetta partiamo dalla sicurezza quindi guardando al rischio idrogeologico saranno oltre 3 milioni e mezzo di interventi sul nostro territorio grazie alla provincia grazie alla regione sicurezza perché parliamo della mobilità sul territorio quindi se pensiamo le piste ciclabili un'opera è stata già appaltata in questi giorni i lavori sono in corso verso Borgo Santa Maria continuerà invece nei primi mesi del 2016 avranno avvio le opere per il completamento del Bike to Coast quindi il tracciato lungo tutta la costa fino ai confini di Silvi e di Roseto sicurezza anche perché abbiamo di recente installato sul territorio su richieste ai cittadini anche numerose telecamere nonostante difficoltà ha fatto uno sforzo in più per assegnare diciamo qualche risorsa in più alle famiglie bisognose pensiamo al social market nei primi mesi del 2016 daremo corsa a questo ulteriore importante progetto di aiuto appunto alle famiglie più bisognose pensiamo all'ambiente sono oltre dieci anni il comune di Pineto ininterrottamente riesce ad ottenere l'assegnazione della bandiera blu pensiamo al turismo lo scorso anno abbiamo investito tanto nell'identificare il nostro territorio per alcuni eventi importanti nell'ambito dello sport che ringraziamo il Cerrano Outdoors e penso al meeting o piuttosto lo sforzo fatto per ristaurare un rapporto e dialogo con il mondo degli alpini in occasione della dunata stiamo continuando a lavorare su questo senso sulle iniziative sportive quest'anno sarà un anno ricco di appuntamenti sportivi ma che hanno un significato soprattutto sociale perché pensiamo che febbraio ad esempio ospiteremo il ritiro della nazionale ciclismo paralimpica con la presenza di Zenardi all'interno della squadra così come continueremo con il campionato nazionale di bocce per disabili il campionato nazionale ANED dei trapiantati fino a proseguire poi attraverso gli altri appuntamenti di nuoto di calcio fino alla notte bianca che un po' va come dire coronare tutte le iniziative sportive dell'anno stiamo attivando importanti canali verso l'Europa di dialogo anche con altri paesi perché crediamo importante la risorsa dell'Europa come progettazione e anche come cresce il territorio non solo dal punto di vista economico e finanziario Arrivano fondi per gli impianti idrici della Marsica per ristrutturare e rigenerare le strutture esistenti appartenenti al CAMI il Consorzio Acquedottistico di Avezzano vediamo La rigenerazione dei depuratori d'acqua situati nel territorio marsicano avverrà in 252 giorni con un intervento complessivo di 12.800.000 euro provenienti dalla regione Abruzzo e questo è l'obiettivo per il 2016 del Consorzio Acquedottistico Marsicano cosiddetto CAM il progetto è stato illustrato dall'amministratore delegato del CAM e dal consigliere alla gestione i depuratori da rigenerare sono quelli di Avezzano Trasacco Tagliacozzo Carsoli Celano e Capistrello mentre quelli di Gioia de Marsi Lecce de Marsi e Ortucchio sono da potenziare un altro lavoro di adeguamento riguarderà il completamento della rete fognaria della località di Camporotondo grazie alla copertura di 400.000 euro per quanto riguarda i depuratori di Scurcola Marsicana e Luco de Marsi sono stati inseriti in un finanziamento stanziato dal governo il cosiddetto Sblocca Italia per un totale di 2 milioni di euro di fondi abbiamo raggiunto un grande risultato dicono i vertici del CAM poiché la giunta del Lazio ha riconosciuto il debito pregresso di 2 milioni di euro e dunque aspettiamo la delibera del Consiglio regionale per recuperare quei soldi entro il 2016 contiamo di recuperare anche altri 6 milioni di euro tra amorosità e utenze sommerse per quanto concerne i debiti stiamo snellendo la struttura del CAM e per il momento abbiamo chiuso i conti aperti con i fornitori locali il CAM è stato detto dai vertici ha anche acquisito finanziamenti attraverso 12 gare di evidenza pubblica che hanno puntato non al ribasso dell'offerta ma al valore tecnico della proposta progettuale perché una depurazione più completa ed efficiente significa risanare i debiti accumulati con le precedenti gestioni tra i depuratori da rigenerare quello di Rio Pago otterrà il maggior numero di fondi 2 milioni circa di euro poi ancora a seguire quello di Avezzano con un milione e mezzo di euro quello di Carsoli con un milione e duecentomila euro circa ed infine quello di Ortucchio con un milione e seicentomila euro questa sera appuntamento per il veione di San Silvestro tantissimi abruzzesi saranno a cena dai ristoratori e allora noi siamo andati a vedere quali sono i preparativi da un ristoratore di Montepagano vediamo ci troviamo al ristorante diffuso D1 di Montepagano da poco l'apertura per vedere qual è la preparazione in vista di questa sera per il gran cenone di Capodanno tutto pronto per stasera? tutto pronto sì tutto pronto come vi state preparando? allora noi ci stiamo preparando cominciando dall'accoglienza che sarebbe qua e poi abbiamo il nostro bartender Michele che ha preparato dei cocktail che noi serviremo con delle ostriche per questa sera cocktail di benvenuto accompagnato con le ostriche tutto pronto in sala vediamo il ragazzo lì che si sta preparando e poi ha anche una particolarità è stato ad un programma televisivo famoso sì è stato a Tusiche Vales sul canale 5 quindi è un professionista diciamo e ora non ci resta che scoprire il menù della serata a quello vi lascio lo chef abbiamo scelto il cannolo nostro di ricciola con una variazione non mettiamo il tartufo nero ma mettiamo le erbe a cipollina e le verdure croccanti poi abbiamo scelto il tonno al vasabi che piace tantissimo e li andremo con un trebbiano poi abbiamo fatto una seppia sporca è un ultimo piatto che è fatto da poco che è una seppia sporcata a modo nostro con il proprio nero e poi con l'aggiunta degli altri ingredienti che sul piatto appare minimal come una seppia sporca ma in realtà ha un'esplosione di gusto e di consistenza molto piacevole poi continuiamo con un tagliolino al tartufo bianco sempre un tartufo aquiliano per rimanere in zona semplicissimo poi con un fagottello al pecorino di farindola caviale e limone per profumare e una salsa prezzemolo che in realtà è un estratto di prezzemolo quindi la facciamo molto al naturale e poi concludiamo con una triglia imborrata al tartufo nero e poi infine una coda di rosso l'ardellata con i ceci di navelli con un napoleo di ceci di navelli dolci? dolci facciamo il panettuan l'abbiamo chiamato che è una rivisitazione del panettone classico iniziamo con il franciacorta che è una bollicina medito classico 36 mesi su lieviti si abbina molto bene col pesce crudo per iniziare poi continuiamo con un trebbiano locale passiamo un montepulciano ma non troppo forte perché comunque c'è presenza di tartufo e abbiamo pensato un prodotto aquilano perché ci sono i ceci di navelli quindi si abbina molto bene per terminare il classico champagne francese non metodo classico e tra le celebrazioni delle festività natalizie ci sono anche le grandi opere degli artigiani allora noi ora vi facciamo vedere un presepe realizzato in 110 metri quadri vedete 110 metri quadri interamente occupati da scenari pastorali dettagliati realistici e animati suoni luci movimenti un presepe che si sviluppa nel corso degli anni tutto inizia nel 1980 Mario Londrillo vuole esaltare il significato più spirituale delle festività e nelle mura di casa inizia a dedicare spazio al suo sogno meticolosità nella cura dei dettagli come i movimenti dei pastori o come il vagito di Gesù Bambino o come la disposizione dell'orsa maggiore nello sfondo tutti i pezzi costruiti e assemblati dalle sue mani dietro uno studio protratto negli anni corteccia di sughero fatta arrivare dalla Sardegna sapientemente lavorata per non essere danneggiata dal tempo le statuine provengono tutte dal più celebre quartiere di Napoli dedicato al presepe San Gregorio Armeno una struttura di impalcatura imponente un impianto audio e uno di luci che scandiscono lo scenario dal tramonto all'alba compreso il canto del gallo a testimoniare la bellezza del lavoro realizzato da Mario Londrilla a Pescara ci sono i tanti curiosi provenienti da tutta Italia sono venuto da tutte le parti d'Italia questo bellissimo presepio perché è un presepio permanente alla città di Pescara e a tutta l'Abruzzo anche l'Italia ho dovuto creare un presepio permanente un'opera d'arte a tutta la città di Pescara e da un presepe completamente scolpito dagli artigiani passiamo a un presepe vivente quello di Spoltore vediamo oltre 2.500 persone hanno assistito alla seconda edizione del presepe vivente organizzato in contrada Cavaticchi di Spoltore dall'Associazione Culturale Cavaticchi per le Tradizioni Popolari complici lo scenario naturale incantevole l'accuratezza dell'allestimento e la dedizione con cui i 230 figuranti diretti dall'attore e regista Mario Probi hanno dato vita alla sacra rappresentazione gli spettatori si sono potuti immergere in un'atmosfera che li ha riportati indietro di 2016 anni al giorno in cui sulla terra in una grotta di Bethlehem riscaldato dal bue e dall'asinello è nato Gesù la terra in un'atmosfera di indietro Il personaggio della Madonna è stato interpretato da una giovane mamma di soli 24 anni, Francesca Giansante, Gasperi Firmani e Stato San Giuseppe, Gianni Passeri si è calato nella parte di Erode. Ora apriamo la pagina dello sport, sarà un capodanno agli antipodi per Pescara e Virtus Lanciano e dopo che il Pescara ha chiuso bene la fine dell'anno e si pensa al mercato per migliorarsi, invece il Lanciano pensa all'esodo dei calciatori. Andrea Costantini. Staff tecnico e giocatori del Pescara si godono i meritati giorni di riposo e le feste di Capodanno, in attesa di tornare a sudare per preparare una seconda parte di stagione che dovrà confermare le certezze acquisite finora, per poi compiere un ulteriore salto di qualità che potrebbe portare i Biancazzurri a competere per la Serie A diretta. Funzionali a ciò anche le mosse di mercato. Tra quelli in entrata il nome più caldo, come già detto, è quello di Ismail Ekmaidat che arriverebbe in prestito dopo che la Roma ne perfezionerà l'acquisto dal Brescia. L'alternativa è Antonio Zito dell'Avellino, meno giovane ma più scafato per la categoria. Anche Zito risponde ai canoni della mezzala di qualità da mettere a disposizione di Massimo Oddo. Per la difesa si tiene sempre d'occhio Maurizio Domizzi dell'Udinese che comunque ha un ingaggio importante. Per l'attacco il Pescara insiste per Antonio Piccolo in uscita da Lanciano. La prossima settimana le due società si rimetteranno a tavolino. Resta da convincere anche il calciatore sul quale ci sono le sirene di Novara e Spezia. La società Ligure è disposta ad un notevole sforzo pur di accaparrarselo. L'arrivo di Piccolo toglierebbe spazio da Andrea Cocco che è stata una delle delusioni del girone d'andata. Per ritrovarsi l'attaccante potrebbe tornare a Vicenza dove lo scorso anno ha fatto faville e la squadra di Marino, che naviga in brutte acque, sarebbe stracontenta di riaccoglierlo. Da valutare la formula, forse il prestito. Anche se il presidente Sebastiani parlava di Cocco come una sorta di rinforzo di gennaio del Pescara, in attesa della sua esplosione, ma le dinamiche di mercato sono imprevedibili e l'arrivo di un giocatore della caratura di Piccolo potrebbe incentivare l'uscita dell'attaccante cagliaritano. In casa Virtus Lanciano, tra voci di eventuali penalizzazioni e di esodi di giocatori, continua a farsi largo l'ipotesi di una cessione societaria. L'ipotesi al momento resta tale, ma del lavorio c'è. Uomini del gruppo Colasante sono all'opera per studiare la situazione, il noto imprenditore lancianese è all'estero e non è possibile avere ulteriori dettagli. La famiglia Maio intanto programma la finestra di mercato che al momento si prospetta ricca di uscite. I conti rappresentano la priorità e le partenze permetteranno di monetizzare e consentiranno un alleggerimento del monte stipendi. Il problema è che tutto questo rischia di cozzare contro i propositi di salvezza e per questo i tifosi sono preoccupati. Piccolo, Marilungo, Puccino e Crecco sono quasi da considerare degli ex, interessi forti anche verso Paghera e Mammarella. Il 2016 sarà l'anno di tanti addi per la Virtus Lanciano. E sarà un anno indimenticabile anche per il Teramo. Tante emozioni contrastanti. Da un lato l'emozione della promozione in Serie B e dall'altra l'inchiesta calcistica che poi ha visto retrocedere la squadra del Diavolo. Il servizio. Dal tripudio per la prima storica Serie B al culmine di un campionato strepitoso che ha mandato in estasi una intera città ad un'estate da incubo vissuta sul filo dei nervi e delle tensioni per un'inchiesta sportiva che ha scippato l'agoniato traguardo raggiunto ad un gruppo che sul campo lo aveva pienamente meritato. Il 2015 resterà per sempre negli annali della Teramo Calcio. Un anno incredibile dove è successo tutto il contrario di tutto. Quel che resta ai Biancorossi ora è una stagione di Lega Pro disputata tra le macerie di una B che in tanti dei calciatori che sono rimasti pensavano di meritare ma che è rimasta un miraggio. Una stagione giocata con quel tarlo in testa che non va più via più che un tarlo, un macigno. Una proprietà anche lei fiaccata da questa vicenda che sembra aver smarrito la via maestra con una progettualità probabilmente da ridefinire. Dal sogno all'incubo 24 risultati utili consecutivi. Un gioco scintillante nobilitato da due attaccanti straripanti nella qualità e nei numeri. Uno stadio Bonolis che ha riscritto di partita in partita nuovi record di presenze per un pubblico mai così caldo e numeroso. La spedizione dei Mille di Savona di quel 2 maggio che ha fatto piangere tanti per la gioia. Un mese sportivamente da favola aspettando la cadetteria finché quelle lacrime di gioia si sono trasformate in lacrime di sgomento da quel 10 giugno quando il mondo si è rovesciato. Da fine agosto il verdetto sostanzialmente inappellabile col Teramo sballottato prima in Serie D poi in Lega Pro per un verdetto che ancora continua ad avere dei lati oscuri. Perché è vero che due persone cruciali nelle vicende della Teramo Calcio, il numero 1 Luciano Campitelli, il presidente e la mente che ha assemblato un gruppo fantastico e che lo ha fatto per anni. Marcello Di Giuseppe, l'allora direttore sportivo, hanno riportato delle pesanti inibizioni e multe. Errori evidentemente ne sono stati commessi, eppure allo stato attuale dei fatti non si conoscono giocatori di quel Savona responsabili di illecito. Per coerenza il nostro auspicio è che questi giocatori, se ci sono, rispondano davanti agli organi di giustizia sportiva. Forse sarà anche più facile per molti giocatori e tifosi accettare un verdetto che ancora non viene del tutto digerito. Perché poi se non dovessero esserci questi calciatori responsabili di illecito e i 75 punti contro i 71 della seconda classificata dovessero essere veri e pieni, il verdetto saprebbe di più di beffa. Cioè una condanna per una partita vera. Chiusa la parentesi, è evidente ora che per il Teramo il mercato di gennaio sarà decisivo per correggere i tanti errori commessi a settembre. Ma la fretta e lo stordimento post-verdetto hanno giocato brutti scherzi. La squadra dovrà riprendersi subito, restare nelle zone basse, troppo a lungo sarebbe solo che deleterio. Il 2016 dovrà essere un anno di rinascita dalle ceneri degli ultimi mesi. Il TG6 finisce qui, il prossimo appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 19. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.